Il secolare isolamento in cui è vissuto la Sardegna, i suoi scarsi contatti con il resto del mondo sono i caratteri che hanno più profondamente inciso nella sua fisionomia. Così la Sardegna doveva conservare fino ai nostri giorni, soprattutto nelle sue zone centrali, rimaste più a lungo isolate, quell'aspetto così noto al visitatore di terra aspra e solitaria in cui possono sussistere tutt'oggi forme di vita tradizionali e caratteristiche. La scarsità dei centri abitati e la pressoché completa mancanza di rapporti che è sempre esistita tra paese e paese, fecero sì che ogni centro divenisse quasi un'isola in seno all'isola. È quindi sulla necessità di provvedere a se stessi, contando esclusivamente sulle proprie forze, che nasce e si sviluppa l'artigianato sardo, come del resto qualsiasi artigianato primitivo. I suoi prodotti si rivolgono anzitutto a soddisfare le più importanti e immediate esigenze della vita quotidiana. La fattura di ogni prodotto, la forma che qualsiasi oggetto assume, è anzitutto subordinata alla sua utilizzazione pratica. Se oggi quella stessa forma può venire apprezzata per il suo valore estetico e, per esempio, una brocca può diventare un oggetto di arredamento, non si deve dimenticare che all'origine quella forma, come qualsiasi altra, obbediva anzitutto alla praticità del suo uso. È solo dopo aver soddisfatta l'esigenza pratica a cui erano destilati i prodotti che l'artigianato poteva soddisfare coscientemente l'esigenza estetica, aggiungendo al prodotto l'ornamento. Ancora oggi, in alcune zone della Sardegna, è possibile trovare delle abitazioni all'interno delle quali l'intero arredamento è costituito da tipici prodotti locali, ancora destinati all'uso pratico. Ciò è la conferma di una tradizione che non è mai venuta meno. Sì, 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 sì. Un altro aspetto non meno interessante da notare è la natura della materia prima utilizzata da questa produzione artigianale. Le risorse che la natura del luogo offre più spontaneamente rappresentano in genere il materiale preferito dalla produzione artigiana. In Sardegna un po' ovunque crescono gli asforelli, ma sui monti della Barbagia, che è la parte centrale dell'isola, la loro bianca fioritura è così ricca e intensa da dar quasi l'illusione di una insolita nevicata primaverile. In questa stagione lo stelo della pianta raggiunge il suo massimo sviluppo e insieme quella consistenza e flessibilità che lo rendono adatto all'uso. Gli antichi lo chiamavano il fiore della morte e ne immaginavano rivestiti i prati dell'estrema Tule, il paese d'oltretomba. La sfodelo fiorisce in primavera, in maggio viene colto e diventa un elemento essenziale della vita e del lavoro delle donne. La corteccia di questa pianta dal grande fiore pallido offre infatti una materia preziosa all'abilità delle loro mani, che la intrecceranno in cestini di mille forme, adatti a tutte le esigenze della casa. Questa è un'economia povera, autosufficiente, costretta a trovare nei suoi limitati orizzonti le materie prime per tutte le necessità dell'esistenza. La corteccia di questa pianta dal grande fiore della morte e ne immaginavano rivestiti i prati dell'esistenza. La corteccia di questa pianta dal grande fiore della morte e ne immaginavano rivestiti i prati dell'esistenza. La corteccia di questa pianta dal grande fiore della morte e ne immaginavano rivestiti i prati dell'esistenza. Sono paesini di montagna dove ancora sopravvivono le abitudini e le occupazioni della società pastorale. Ollollai è un tipico centro della Barbagia, dove il ritmo dell'esistenza sembra ancora quello naturale delle stagioni. Isolato e montano, Ollollai è ancora uno dei pochi paesi della Sardegna in cui si mantiene l'uso quotidiano del costume. Ed è ormai solo tra i centri della Barbagia dove l'artigianato delle corpule, lavorate con la sfodelo, continua a esistere, conservando inoltre pressoché inalterate le sue caratteristiche originarie. Del fiore si lavora lo stelo, che è rivestito di una pellicola sottile ma resistentissima di un caldo colore verde brunito, cui il primo processo di rasciugamento conferisce una pura tinta dorata. Quindi la sfodelo viene spaccato in due liste sottili. La padronanza della tecnica di lavoro si avverte già in queste donne nella stessa precisione, nella puntuale geometria del taglio. E di nuovo il sole, questo patrono delle civiltà mediterranee, interviene nel processo di lavoro, togliendo ogni residuo a umidità allo stelo e irrobustendo la nativa elasticità della corteccia, che ne farà una materia flessibile e obbediente sotto la mano precisa dell'artigiana. In realtà, a più che artigianato, dove c'è sempre un attimo di commozione, di gusto, questo è un lavoro vero e proprio. Questo infatti ha un peso piccolo ma preciso nel bilancio familiare. Ed è ancora un obbligatorio passatempo, senza il quale la giornata della donna nel paesino sardo sarebbe giudicata vuota e sprecata. Compiuta la separazione della corteccia dal resto dello stelo, comincia il lavoro di tessitura. Le donne avvolgono strettamente la spodelo intorno ad un'anima e ne ricavano una treccia continua, che collegano in una serie ordinata e fictissima di giri, modellandola in forme di istintiva e originaria purezza, secondo schemi che si ripetano e si tramandano di madre in figlia, di generazione in generazione. Gli alpotelli raccolti da un'anima e ne ricavano una treccia di giri, modellandola in generazione. Vengono utilizzati integralmente. Raggiunto un buon grado di essiccazione, la corteccia è stata separata dalla parte interna. Ora, utilizzando l'una e l'altra, si procede alla confezione vera e propria. La corteccia, più flessibile, viene passata e ripassata come un nastro attorno alla parte più resistente della spodelo e così, progredendo lungo questa spirale, nasce la forma della corvula. L'artigianato delle corvule, come del resto la maggior parte dell'attività artigianale e insolana, viene esercitata dalle donne, che sono solite riunirsi in gruppo e lavorare all'aperto. Non c'è praticamente donna del paese che non vi partecipi. Nascono così le ceste per il grano, nascono i cestini e le corvule facciute, nascono i recipienti e gli oggetti per le mille attività della vita domestica. Si vedono quasi soltanto donne in questo paese. L'attività economica principale è infatti qui la pastorizia e gli uomini sono costritti a trascorrere gran parte dell'anno lontani dal paese per seguire le greggine e i pascoli di pianura. A Dall'Online, la lavorazione delle corvule si presenta quindi come qualcosa di più e di diverso che è una semplice attività economica per diventare un comportamento tradizionale, un fatto di costume. Si può quasi dire che l'intera popolazione femminile del paese inganni in questo modo il tempo della lunga attesa. Il ritmo della produzione dà vita anche ad un piccolo commercio, alimentato dalla richiesta dei paesi vicini che non lavorano la sfodella. Sono umili vecchi mercanti che pensano a questa industria dei poveri con i mezzi semplici dell'economia primitiva. Grazie per la visione! Grazie per la visione!